La possibilità di intervento del fondo esisteva e che quindi si poteva fare un'operazione diretta a rimettere auspicabilmente le banche in cesto, poi dopo si sarebbe visto in concreto. Era una delle testimonianze più attese nel processo per il crack di Banca Etruria, quella di Salvatore Maccarone, presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che oggi in aula ha spiegato come la banca si sarebbe potuta salvare. Nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia è stato nuovamente il turno delle difese. Maccarone, già un mese fa al Tribunale di Ancona, aveva risposto alle domande sul crack di Banca Marche, che nel 2015 condivise, assieme ad Etruria, Carichieti e Cari Ferrara, il destino della risoluzione. Banca Etruria dal febbraio 2015 era in amministrazione straordinaria, con i commissari Sora e Pironti. Avevano necessità di un sostegno, di un aiuto per la ricapitalizzazione, si sono rivolti al fondo, perché queste cose vengono fatte quando ne sono i prosupposti. L'intervento consisteva in un contributo al capitale della banca, un aumento di capitale riservato al fondo, con una partecipazione anche degli obbligazioni subordinati, che avrebbero visto le obbligazioni convertite in azioni, e quindi una dotazione patrimoniale che in quel momento era indispensabile, perché c'era un deficit di un po' più di 15 milioni. L'operazione fu stoppata da una lettera dell'allora ministro all'economia, Padoan, inviata dai commissari europei ai servizi finanziari e alla concorrenza, che ravvisarono l'aiuto di Stato. Come forse sapete, sia il Tribunale che la Corte di Giustizia hanno ritenuto che fosse sbagliata questa posizione. A sei anni di distanza, infatti, la Corte di Giustizia europea ha dato ragione all'Italia sul salvataggio Tercas-Caste di Teramo, avvenuta due anni prima della risoluzione delle quattro banche attraverso il fondo. Alla luce di quello che è accaduto dopo, se l'intervento fosse stato fatto, si sarebbe fatto. Che poi l'intervento fosse in concreto sufficiente per il salvataggio, questo l'avremmo visto quando poi le attività fossero state svolte. Insomma, la valutazione era stata fatta per l'Etruria e per le altre tre banche. Per questa mattina erano stati convocati anche tutti o quasi i consiglieri dell'ultimo CDA, compreso Pierluigi Boschi, ex vicepresidente e padre dell'ex ministro Maria Elena. Ma solamente in due si sono presentati Luciano Nataloni e Ilaria Tosti. Gli altri, compreso Boschi, hanno fatto sapere di essere intenzionati ad avvalersi della facoltà di non rispondere in quanto imputati di un reato connesso, le consulenze d'oro oggetto di un altro processo e la difesa Kamaiti ha così rinunciato ai testi. Non era presente nemmeno Anna Nocentini-Lapini, che ha inviato una giustificazione, motivi di lavoro, ritenuta troppo generica dal presidente del collegio giudicante Gianni Fruganti, che ha così disposto la convocazione coatta per domani.